Aspettaci qui, Dom. Facciamo in un attimo. Ok. Andiamo. Alla prossima. Alla prossima. Vogliono strappargli delle informazioni a botte. Tiralo fuori da lì. Devo portarti da un dottore. Ah, c'è tempo. Prima sempre. Ordinare amministrazione. Ordinare amministrazione. Ordinare amministrazione. Ordinare amministrazione. Ordinare amministrazione. Ordinare amministrazione. Scusate, abbiamo un problema. Fermate subito! Tirati su, Sam. È finita. Ti hanno conciato per benino, amico. Andiamo. Cristo! Non è niente! Andrà tutto bene. Il dottore ti rimetterà in sesto. Hai la pelle dura, tu. Oh, merda! Oh, merda! Grazie a tutti. Ci siamo. Tra un attimo saremo in macchina. E sarà tutto. Non muoverti, stronzo, o ti riempio di buchi. Avanti. Su, provaci. Prova a fermarmi. Certo, amico. Beh, sta calmo. Va tutto bene. Va pure, nessun problema. Su, provaci. No, ha i nostri soldi. Prendilo. 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 Prendilo.